ciao buongiorno a tutti oggi faccio questa recensione per porre la vostra attenzione questo sette di questi tre cavi venduti dalla aukey il modello cb md3 sono tre cavi due dalla lunghezza di un metro ed uno della lunghezza di due metri che cosa hanno di particolare questi cavi intanto potete subito notare lo spessore dello stesso cavo questo indica che dentro ci sono cavi che abbastanza grossi quindi che hanno una portata di corrente maggiore rispetto ad altri cavi perché perché sono perfettamente compatibili con le ricariche veloce quindi quick charge 2 l'altra cosa particolare è che sono per una maggior trasferimento appunto sia di corrente che trasferimento dati sono placati come potete vedere in oro da entrambe le parti sia nella parte del connettore usb type a sia dalla parte del connettore micro usb questi cavi li possiamo usare con qualsiasi device con qualsiasi caricabatterie da muro e possiamo stare certi della loro affidabilità per esempio possiamo usarlo con il piatti 14 sempre della aukey che ha una tecnologia qualcomm 3.0 quindi tranquillamente possiamo sfruttare questi cavi per questo possiamo usarlo invece col modello sempre dell'aukey di caricabatterie da muro il piay 2 che oltre ad avere una porta qualcomm 3 ha anche una porta usb type c e possiamo usarli tranquillamente per ricaricare anche le nostre batterie sia in ricarica batteria sia usando al contrario appunto la batteria in ricarica dei nostri device chi fosse interessato all'acquisto di altri prodotti aukey per esempio qua c'è una porta come dicevo prima type c naturalmente la aukey ha anche in vendita il cavo cb cd 0 3 che non è praticamente che un cavo di trasferimento usb 3 infatti come potete vedere la differenza delle normali usb e che ha l'interno colorato di blu tra l'altro questo è un ottimo cavo rivestito in nylon e alla porta usb type c perché dico questo perché adesso ultimamente sta andando molto avanti la tecnologia e quindi tutti gli caricatori da muro e le batterie power bank hanno tutti la tecnologia quick charge 2 o addirittura come ho fatto vedere quick charge 3 ma se noi non abbiamo degli ottimi cavi per trasferire la corrente al meglio è inutile avere i caricabatterie con questa tecnologia quindi cavetti perfetti placati oro in questo caso non posso fare altro che consigliarne l'acquisto ciao a tutti